Con molta humiltà e rivoluzione, e all'inizio, passando al sangue, dalla presa del superiore, a partire alla Madonna, Madre e l'aniversario, nel nome del padre, del figlio e dello figlio santo, nel primo mistero curioso, contempliamo la genia di Gesù nel Gesù. Il nostro cuore e la nostra mente vanno a farciere questa giornata. Quando leggiamo, è troppo poco che tu sia un inferno per restaurare le gemuli già corte e ricondurre i superstiti di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. e Pietro gli disse, «Signore, dove vai?» gli rispose Gesù. «Dove io vado, tu per ora e non vuoi seguirci, mi seguirai in tutta. la mia salvezza». Padre nostro, che si riceve, sia santificato il tuo nome, benvenuto regno, che sia fatta la tua volontà, come il Cielo, così in terra. Padre, oggi e oggi, il nostro Padre, rimettiamo i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci incurre in tentazione, ma liberaci dal male. Padre, Maria, mia grazia, il Signore, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo Signore Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Padre, Maria, mia grazia, il Signore, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo Signore Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Padre, Maria, mia grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo Signore Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Padre, mia grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo Signore Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, mia grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo Signore Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, mia grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo Signore Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, mia grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo Signore Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, mia grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo Segore Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e allora la nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e allora la nostra morte. Amen. Gloria al Padre, Signore e allo Spirito Santo, come erano in vicino di sempre nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona la tua morte, prese e fece la patologia dell'interno. O concesse tutte le aeree, specialmente le più bisognose, ma di Dio a me. O Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Isa e Nois insegnasi a stare con Gesù nella sua orgoglia di Gersenne. Secondo mistero doloroso, la lagellazione di Gesù. Continua la lettura della parola di Dio di oggi. Ora ha parlato il Signore che mi ha plasmato il suo serco dal seno materno per ricondumere a lui Giacobbe e a lui venire Israele, poiché ero stato onorato dal Signore e Dio era stata la mia forza. E Gesù rispose, Quello che vuoi fare è farlo presto. Nessuno ne convensava di chi e perché egli avesse detto questo. Alcuni infatti pensavano che poiché Giuda teneva la casa, Gesù gli avesse detto, compra quello che ci occorre per la testa, oppure che dovreste dare qualche cosa in bocca. Egli, preso il boccone, subito uscì ed era noto. Padre nostro, che dicevi, sia santificato il tuo nome, venga il Vittorio, sia fatta la tua volontà, come dicevo, così interna. Dacci noi di nostro mare quotidiano, rimetti a noi i nostri piedi, come noi rimettiamo i nostri debitori. E non ti intupe in piedi azioni, ma liberaci dal male. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essa è l'ora nostra morte. Ave Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, Ad essa è l'ora nostra morte. Ave Maria, chiede di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta, fratellone, e benedetto, il frutto del tuo Seno, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essa è l'ora nostra morte. Ave Maria, chiede di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta, fratellone, e benedetto, il frutto del tuo Seno, Santo Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essa è l'ora nostra morte. Ave Maria, chiede di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta, fratellone, e benedetto, il frutto del tuo Seno, Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essa è l'ora nostra morte. Ave Maria, chiede di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta, fratellone, e benedetto, il frutto del tuo Seno, Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essa è l'ora nostra morte. Ave Maria, chiede di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta, fratellone, e benedetto, il frutto del tuo Seno, Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essa è l'ora nostra morte. Ave Maria, chiede di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta, fratellone, e benedetto, il frutto del tuo Seno, Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essa è l'ora nostra morte. Ave Maria, chiede di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta, fratellone, e benedetto, il frutto del tuo Seno, Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essa è l'ora nostra morte. Ave Maria, chiede di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta, fratellone, e benedetto, il frutto del tuo Seno, Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essa è l'ora nostra morte. Amen. Gloria all'ora, il Signore è con te. Come il Signore è sempre nel secolo di te. E con te, con te, con te, con te. Gesù, perdona la nostra morte. Preseggio, la tua morte è con te. Porta in me, non ti pregami, se già vivi nel più bisogno, se è la tua misericordia. O Maria, tu sei la Madonna della pietà di Mascara, insieme nella notte della vita, ad essere accanto al figlio di tuo fratellato. Terzo mistero, l'incornazione di stile. Il Signore dal Seno Materno mi ha chiamato, fino al tempo di mia madre ha pronunciato il mio nome. E Pietro gli disse, Signore, non posso cederti ora, perché darò la mia vita per te. Padre nostro, che sei dicendo, sia santificato il tuo nome, benvenuto regno, sia fatto la tua volontà, come dicevo, così interna. Dacci oggi il nostro Pasqua e il Poi di Piazza, riveli al nome i nostri debiti, come noi riveliamo i nostri territori, e non gesturre in pensazione, ma rivela sulla mano. Ave Maria, che è la grazia, Signore, come te. Tu sei benedetta, fra le donne, benedetto è il frutto del tuo segno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essa è l'ora nostra morte. Amen. Ave Maria, che è la grazia, il Signore, come te. Tu sei benedetta, fra le donne, benedetto è il frutto del tuo segno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essa è l'ora nostra morte. Amen. Ave Maria, che è la grazia, Signore, come te. Tu sei benedetta, fra le donne, benedetto è il frutto del tuo segno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essa è l'ora nostra morte. Amen. Ave Maria, che è la grazia, il Signore, come te. Tu sei benedetta, fra le donne, benedetto è il frutto del tuo segno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essa è l'ora nostra morte. Amen. Ave Maria, che è la grazia, il Signore, come te. Tu sei benedetta, fra le donne, benedetto è il frutto del tuo segno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essa è l'ora nostra morte. Amen. Ave Maria, che è la grazia, il Signore, come te. Tu sei benedetta, fra le donne, benedetto è il frutto del tuo segno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essa è l'ora nostra morte. Amen. Ave Maria, che è la grazia, il Signore, come te. Tu sei benedetta, fra le donne, benedetto è il frutto del tuo segno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essa è l'ora nostra morte. Amen. Ave Maria, che è la grazia, il Signore, come te. Tu sei benedetta, fra le donne, benedetto è il frutto del tuo segno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essa è l'ora nostra morte. Amen. Ave Maria, che è la grazia, il Signore, come te. Tu sei benedetta, fra le donne, benedetto è il frutto del tuo segno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essa è l'ora nostra morte. Amen. Ave Maria, che è la grazia, il Signore, come te. Tu sei benedetta, fra le donne, benedetto è il frutto del tuo segno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essa è l'ora nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Signore e allo Spirito Santo, come era il principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli anni. Gesù, Gesù, perdone, osegolote, presentaci dal fuoco dell'inferno, o che cedo tutte le altre, specialmente le più bisognose, nella tua misericordia. Maria, Madonna della Vecchia, di Nassai, contempliamo la spada, che protegge il tuo cuore. Pensiamo insieme, nelle nostre case, alla coronazione di spine, del figlio di un mondo. Chiediamo di evitarci di essere vicini a me e a te. Quarto mistero, la salita al Calvario con la croce, invano la faticata, per nulla, e invano consumando le mie forze, ma certo, il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa, presso il mio Dio. In quel tempo, mentre erano a mensa con i suoi discepoli, Gesù fu profondamente turbato, e dichiarò, in verità, in verità, io vi dico, uno di voi mi tragerà. Padre Nostro, che sei nei cieli, sia sanificato il tuo nome, venne per il tuo regno, sia fatta la prova totale, come il cielo, così in terra. Scacci oggi il nostro bagno quotidiano, venite a noi, come noi, chiamo i nostri servitori, e non ci dure in tentazione a liberarsi dal male. Avevo dire che la ringrazia, il Signore è contento, se ne vedete a fare l'ordine, e benedetto il frutto del tuo segno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e allora la nostra morte. Ave Maria, e vina di grazia, il Signore è contento, tu sei benedetto il frutto del tuo segno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e allora la nostra morte. Amen. Ave Maria, e vina di grazia, e benedetto il frutto del tuo segno, e benedetto il frutto del tuo segno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e allora la nostra morte. Amen. Ave Maria, e vina di grazia, il Signore è contento, tu sei benedetto il frutto del tuo segno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e allora la nostra morte. Amen. Ave Maria, e vina di grazia, e il Signore è contento, tu sei benedetta il frutto del tuo segno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e allora la nostra morte. Amen. Ave Maria, e vina di grazia, e il Signore è contento, tu sei benedetta il frutto del tuo segno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e allora la nostra morte. Amen. Ave Maria, e vina di grazia, il Signore è contento, tu sei benedetta il frutto del tuo segno, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e allora la nostra morte. Amen. Ave Maria, e vina di grazia, il Signore è contento, tu sei benedetta il frutto del tuo segno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e allora la nostra morte. Amen. Ave Maria, e vina di grazia, il Signore è contento, tu sei benedetta il frutto del tuo segno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e allora la nostra morte. Amen. Ave Maria, e vina di grazia, il Signore è contento, tu sei benedetta il frutto del tuo segno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e allora la nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Signore e allo Spirito Santo. Come nel principio, Dio è il Signore dei secoli, dei secoli anni. Gesù, Dio, perdona le nostre cose, presentaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, e cammino delle luci, di sostuose, della tua vita e dei corpi. O Maria, Madre di Dio, tu sai quante le nostre famiglie, nella nostra città, nella nostra biografia, in Italia, nel mondo intero, sono sulla salita del talpario, insieme ai consigli e al mondo, in segno a ciazzare accanto a ciascuna, anzitutto con la nostra benedetta, perché questo tempo rammatico, diventica di tutti, per tutte, un tempo di grazia. Quinto mistero, Gesù, progettisto, muore in voce, mi ha detto, mio serbo, tu sei, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria. E Gesù disse, Ora il fine dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato di lui. Se Dio è stato glorificato di lui, anche Dio lo glorificherà la parte sua e lo glorificherà di subito. Padre, che se il cielo sia santificato sul suo nome, venire il corretto che sia fatto adottorità come il cielo così interno. Dacci oggi il nostro male confinante e rimetti a noi i nostri detti come noi rimettiamo ai nostri dettori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Ave Maria, vicina di razza del Signore con te. Tu sei benedetta fratellone e benedetto il frutto del tuo segno di Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori ad esserlo da nostra morte amore. Ave Maria, bene di razza il Signore con te. Se benedetta fratellone benedetto il frutto del tuo segno di Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori ad esserlo da nostra morte amore. Ave Maria, bene di razza il Signore con te. Tu sei benedetta fratellone benedetto il frutto del tuo segno di Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori ad esserlo da nostra morte amore. Ave Maria, bene di razza il Signore con te. Tu sei benedetta fratellone benedetto il frutto del tuo segno di Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori ad esserlo da nostra morte amore. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori ad esserlo da nostra morte amore. Ave Maria, bene di razza il Signore con te. Tu sei benedetta fratellone benedetto e il frutto del tuo segno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essa allora nostra morte. Amen. Ave Maria, fine grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta del frutto del tuo segno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essa allora nostra morte. Ave Maria, fine grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta del frutto del tuo segno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essa allora nostra morte. Amen. Ave Maria, fine grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta del frutto del tuo segno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essa allora nostra morte. Ave Maria, fine grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta del frutto del tuo segno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essa allora nostra morte. Amen. Gloria alla Pia, allo Signore e allo Spirito Santo. Com'era il Vigilio per sempre, per secoli e per secoli. Amen. O Gesù, perdona la nostra morte. Padre, presentaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le altre, specialmente le più bisognoiose della tua misericordia. Maria, Madre della pietà di Nostale, il tuo cuore è profitto ai piedi della croce dove il tuo figlio muore. Ti chiediamo di poter essere accanto a te e con te accanto al figlio muore. Fa che possiamo ogni giorno sperimentare il tuo dolore e la consolazione, e soprattutto donare a noi, a tutto il Cielo, Capoponsole e Consolo, le nostre famiglie al mondo ingenuo. Insieme a te diciamo, salve la Regina. Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te, riportiamo ai piedi della pietà, a te, riportiamo ai piedi della pietà, a te, riportiamo ai piedi della pietà. A te, riportiamo ai piedi della pietà, a te, riportiamo ai piedi della pietà. O su tu, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tutti i segni di ossi, e mostraci dopo questi segni di ossi tutto bene e per lo stesso, o premente, o via, o dolce vergine Maria. Signore, Pietà, Cristo, Pietà, Cristo, Pietà, Signore, Pietà, Signore, Pietà, Santa Maria, prega per noi, Santa Mare di Dio, prega per noi, Santa Teresa delle Verge, prega per noi, Madre di Cristo, prega per noi, Madre della Chiesa, prega per noi, Madre della Divina Grazia, prega per noi, Madre di Dio, prega per noi, Madre della Chiesa, 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 prega per noi, Vergine degna di Onore, Vergine degna di Fiscilorio, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, Spetto di Perfezione, Sede della Sapienza, Fonte della nostra gloria. D'Apernacolo, Tempio dello Spirito Santo, D'Apernacolo dell'Eterna gloria, Imoro e Consagrata Maria, Rosa Mistica, Torne della Santa Sottaglia, Fortezza e Resignatia, Santuario e Esattina Presenza, Acqua dell'Alleanza. Prega per noi, Porta del Cielo, Prega per noi, Seda del Mazzino, Prega per noi, Salute degli Imper해, Prega per noi, Rifugio dei Пicatori, Prega per noi, Borsalatrice degli Affitti, Prega per noi, Aiuto dei Cristiani, Prega per noi, Regine degli Altri, Prega per noi, Regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle tergine, regina dei santi, regina concebita senza peccato, regina assunta in cielo, regina del santo rosario. Regina della famiglia, regina della pace, regina dei nostri fratelli e sorelle dei futi in questa giornata, regina del Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, oh Signore. Regia per noi, Santa Madre Goodonna, a pensare un re dell'evozio di Cristo, regina. O Dio, il unico Figlio, ci ha procurato bene della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi piccoli santo Rosario, della Beata Regine Italia, Madonna di Italia Pisare, abbiamo invitato questi insegni, concedi di dare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen. Chiediamo la benedizione del Signore per l'intercessione di Maria e chiediamoci di noi, chiediamoci Santo Padre, per le due intenzioni di ora, prendiamo ancora. Dacci oggi il nostro male quotidiano, rimetti a noi i nostri tempi, come noi li mettiamo ai nostri tempi, e non ci inturre in tentazione, ma lì per lasciar male. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e allora la nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Signore e allo Spirito Santo. Com'era e per il Signo, ora e sempre, nei secoli dei secoli. O Vergine, Madre del Signore nostro, donna della speranza, madonna della pietà, rimassata, tu che hai generato l'autore della tutta, aiutaci a comprendere la grazia della salvezza che ci è stata donata nel Santo Battesimo, e a vivere, a sperimentare la gioia e il conforto di essere vivi. Lo chiediamo al Signore nostro Gesù Cristo, che vivi a regna con il Padre e lo Spirito Santo, per tutti i secoli e i secoli. Amen. Il Signore sia con il tuo Spirito, sia benedetto, in nome del Signore, ora e sempre, il nostro aiuto è nel nome del Signore, e mi ha fatto cielo e terra, ti benedica, Dio ricordente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Chi lo sa, che abbiamo completato, sempre più uniti nella fede e nella solidarietà, andiamo in pace. Andiamo grazie a Dio.